Le tensioni nel Mediterraneo orientale, le relazioni tra l'Unione Europea e la Turchia, la Bielorussia e il Nagorno-Karabakh sono i temi del vertice europeo di Bruxelles. Fra le novità della giornata il vetto di Cipro alle sanzioni contro la Bielorussia che è stato revocato da Nicosia come confermato da un messaggio del presidente del Consiglio europeo, il belga Charles Michel. I veti incrociati però non sono mancati in questa riunione, tanto che la montagna rischia di partorire un topolino. Michel ha aggiunto che sarà lanciata una speciale procedura scritta per imporre sanzioni a circa 40 funzionari bielorussi, Lukashenko però non è sulla lista. In uno stallo imbarazzante ma forse incomprensibile, Cipro aveva insistito affinché Bruxelles agisse contro la Turchia per le sue operazioni di fronte alle coste di Nicosia. Ora è la Turchia che deve dimostrare di voler percorrere la strada costruttiva con noi e questa è l'offerta di stasera, ha detto Ursula von der Leyen. Ancora una volta però il sistema di decisioni europee si dimostra lento e deficitario. I leader hanno dovuto esaminare tre bozze prima di arrivare a questo accordo. Molti consigliano ormai di passare a un sistema di voto a maggioranza per le questioni di politica estera, come conferma un analista. E' qui che entra in gioco il problema dell'unanimità, perché i singoli paesi con le proprie preoccupazioni, legittime o meno, possono bloccare le azioni degli altri 26. La lunga notte è passata, ma almeno i leader europei sono arrivati ad avere un accordo.